Annamo! Signori, trailer di Fractured in Alterac Valley. Hanno scelto proprio di usare un termine diverso perché la battaglia ad Alterac Valley era palesemente utilizzato 471 volte. Let's freaking go! Annamo! 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 What's that? They summoned the Ice Lord! Annamo! 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 Porca troia! Vecchio! Che razza di lavoro! Porca troia! Bello! Che cazzo! Bisogna dirgli! Effettivamente è figo! Non ha niente da dire! Alzo completamente le mani perché è veramente bello! Puttana merda! Bah! Bah! Diconi cazzo! Bello! Semplicemente bello! Bravi! Applauso! Dico nient'altro! Il trailer è figo quindi l'espansione è una merda! Va bene! No scherzo! Non è vero! Abbiamo già avuto questo mito ormai è stato sfadato! È stato sfadato molti anni fa! Molti anni fa! No! Allora le news dovrebbero arrivare a breve! Anche perché appunto dicevano che alle 18 partivano i card reveal! Ehm! Beh! Porca troia! Bello però eh! Ma sapete cosa mi ricorda a me? Vagamente! Mi ricorda un pochino lo stile di Salvatore di Uldum! Mi ricorda vagamente lo stile di Salvatore di Uldum! Almeno la prima parte! Dove appunto c'è quella sorta di disco anni 80-90! Un po' con la cassa in quarti! Per spingere l'idea che sia bella la canzone! Quindi in realtà non male! Ehm! Leggi il primo commento! Ehm! Va bene! Ehm! No! Mi piace tutta sta canzone invece! Sarò sincero mi piace! È molto figo! Così! Ehm! Vediamo! A cosa rivelano eccetera! Probabilmente rilasceranno anche la patch note! Di quella che è appunto Fractured in Alterac Valley! In inglese è il NUTS Supremo! Veramente! Curioso di sapere in italiano quanto merda abbiamo fatto! Potrebbero aver fatto un lavorone! Vediamo che lavorone hanno fatto! Curioso di sapere in italiano come si approccerà o non approccerà! Vediamo il Nita! Ringraziando ancora Stinson per il Prime! Bentornato Stinson! E poi ragioniamo su quello che abbiamo visto! E poi sui leak che comunque dovrebbero uscire a breve! Mi dite che cringia parecchio in italiano! Padovano! Io non vedo l'ora di cringiare insieme a voi! In cringing! In allegoria! Tutti insieme! Padovano grazie per i 38! Bella Marino! Sei uno stronzo che non sei venuto a Milano Games Week! Sei veramente un lugubre destino! Ciao Mari! Bentornato! Bentornato! Vediamo! Trailer del filmato Divisi nella Valle di Alterac! Nella Valle d'Alterac anzi! Divisi! Ok! Let's see! Il nemico sta in agguato! La valle sembra quasi trattenere il fiato! Però non ci piegherem! Con asce, mazza e sangue e tono noi trioncheremo! Nuovo giorno! Nuova gloria! Quest'oggi piantere in bandiere di vittoria! Se albero puoi conquistar! Tu ricorda! Non arretrar! Non arretrar! Porco Dio! Se oserai, vincerai! Non arretrar! Non arretrar! Non arretrar! Non arretrar! Mai! Poi, mai! Cederai non arretrar! Questa è bella, rima. Porco Dio. Porco Dio. Cazzo è sta roba? E purtroppo non arretrar suona proprio male in una canzone, cioè, mi dispiace dirlo, ma suona proprio male. Non arretrar, cioè, veramente, non puoi cantare non arretrar, cioè, non ti rimane tanto in testa. Mi pare abbia detto non arretrar. No, vabbè, allora, ci sono un paio di rime molto fighe, tipo questa qui, se oserai vincerai. Vincerai, cioè, assomiglia veramente tanto a una canzone di un, a una pre-cartone animato, ok? Alla sigla di un cartone animato. Se non ci fosse solo non arretrar, la base per fare una bella canzone ci sta. E il problema è che, appunto, poi cade un po' nella merda. E come lo, eh, non lo so come si traduce don't fall back, com'è che è in inglese? Do not fall back, eh, non lo so, effettivamente non è colpa del doppiaggio, eh, cioè, è semplicemente colpa di... Eh, che l'italiano non rappresenta niente di più figo di, di non arretrar. Questo è un po' il discorso. Giorgio Vanni, dove sei? Vuoi il numero? Lo chiamiamo, chiediamo se vuole fare un'altra canzone con me, ma credo che ormai abbiamo esagerato. Eh, lirix non arretrar per 78. Telegram da parte di Filo. Sentiamo Filippo Gardani cosa ne pensa di non arretrar. Audio on, attenzione. Non arretrar. Pronti. Questa canzone mi fa caga, mi fa caga. Perfetto. Eh, il momento cringe l'abbiamo superato anche quest'oggi. Allora, 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 allora. Eh, com'è? Allora, il trailer è sinceramente figo. No, sì, il trailer è sinceramente bello. Adesso lasciamo perdere quello che viene detto, le immagini ci stanno. E anche, diciamo, tornano molte cose di quelle che ho letto, che ho letto in, su questo leak che adesso andremo a vedere. Sono curioso di una cosa, voglio, adesso che l'ho sentita in inglese, in italiano, vorrei risentirle in inglese. Datemi un secondo se non vi dispiace, vorrei riascoltarle in inglese al volo. Anche perché ho visto una cosa e voglio vedere se l'ho vista bene. Fammi rimettere quello in inglese, al volo, eh. In inglese è proprio figo, non gli puoi dire un cazzo. Non me la metto in tedesco. Anche questa rima, questa rima è più bella in inglese anche, pensavo fosse più figa in italiano, invece è più bella anche in inglese. Questa cosa qui è fighissima, questa cosa qua i giocatori di WoW la apprezzano perché è un bel easter egg, cioè easter egg, è una bella citazione perché su WoW, quando conquisti appunto una zona di Alterac Valley, che può essere un posizione, un campo, eccetera, la bandiera fa esattamente quell'animazione per passare da Orda Alleanza o da Alleanza a Orda. E' veramente figa questa cosa, eh. Eh no, è più bella anche in inglese questa. Hold the bridge, push the ridge. Più bella anche in inglese è anche questa, ti ho poco a fare. Se è quello in italiano perde sempre contro quello in inglese. Never fall back, never fall back, never fall back, never fall back, claim the mines perché sono una delle zone di Alterac. Strano. Ecco questa cosa qua è intrigante, cioè questa cosa qua vorrei capire se diventerà un semplice meme del cazzo ed è una cosa sulla quale vogliono fare qualcosa a parte, sto piccolo stacchetto del bull gigante di ghiaccio, che cazzo dice? Cazzo è sta roba, che cazzo è sta roba, le risa, le risa, quelli sotto che urlano indietro, indietro, anche in italiano è figo, è veramente figo. E dai, è figo, è figo, non gli puoi dire un cazzo, è un gran bel trailer, il trailer è molto figo. Peccato che il trailer non sia la parte che si gioca a Darkstone. Ma, questo è una cosa a parte, questo invece è ciò che si gioca effettivamente su HS, ovvero le cartine. Perché se si giocasse con i trailer sarebbe forse uno dei migliori giochi mai studiati nella storia del mondo. Purtroppo non è così. Purtroppo non è così.